Armando Quattrone! Vai! Quando sì, quando sì, quando sì, quando sì No, quando no, quando no, quando no Io sono Armando Quattrone e sono qui a Roccella per l'Unitalsy e porto il mio CD che si chiama Calabria e come avete forse visto in tutti i miei video faccio vedere la Calabria soprattutto all'estero dove vado a suonare e anche per dare un pizzico di orgoglio per quello che noi siamo a noi stessi e nella mia ultima canzone che si chiama Made in Marina celebro il fatto che la Calabria ha 800 km di coste ha un sole che splende quasi tutto l'anno e questa è una grandissima ricchezza e credo che c'è un modo di essere che si può definire Made in Marina in tutti i paesi che affacciano sul mare in Calabria e mi è fatto moltissimo piacere che anche già qui la conoscevano già la cantavano già tutti quanti e spero che la sentiate adesso presto anche voi tra l'altro il video è proprio carino, andatelo a guardare Allora io ho pubblicato questo album tra l'altro proprio in Germania portando come appunto il nome e le immagini della Calabria e la musica anche calabrese lì dove dal 2013 suono ho fatto il mio primo album, questo appunto è il secondo e faccio tantissimi concerti ho fatto presenza in televisione, in radio il mio primo singolo positivo è diventata canzone dell'estate nella radio tedesca nel 2015 e poi niente, tanti tour e ho finito anche l'anno scorso per fare un tour immenso da Tenerife, quindi alle isole Canarie fino a Vienna, passando per Amsterdam, Braga, l'Inghilterra, la Mallorca, la Toscana eccetera però come dicono la canzone Made in Marina l'energia che sento a casa si sente solo a casa i miei prossimi impegni sono questa domenica faccio uno spettacolo di danza e con un mix delle mie canzoni a Marina di Giosa Ionica per la festa del patrono di San Nicola assieme a Danzando Arte in Movimento la scuola di danza, ho preparato uno spettacolo con un mix delle mie canzoni sarà molto interessante vedere come interpretano con il corpo e con l'anima queste mie canzoni e poi dopo le 11 sarò qui a Lido Undamaris a Roccella non perdetevelo tutte le altre date le potete seguire sui miei social seguitemi su Instagram, Facebook e sì, non dimenticate di andare a guardare i video su Youtube ciao ok ragazzi la canzone la sapete la corofia ce l'avete possiamo partire 3, 2 quando e quando quando ci facciamo litigando quando ehi no troppo rapidamente anche se